Ciao a tutti, sono Elisa Piantoni, Sara Gasparini, Martina Migliojkovic, siamo qua, siamo delle componenti della squadra che in questo momento purtroppo sono infortunate quindi sono fuori dalla squadra però sostengono continuatamente le nostre compagne fino in ogni momento e anche in ogni partita e li facciamo un bocca al lupo per la partita di sabato, noi vogliamo tornare più che mai e come le mie due compagne di squadra vogliamo spaccare il mondo e andiamo. Ciao promo! Grazie a tutti!